ciao a tutti i ragazzi buongiorno scusate ma ancora un pochino di raffreddore fotovoltaico da balcone ne parlo perché due giorni fa su internet ho trovato un sito di quelli di dubbi autorevolezza che parlava del fotovoltaico da balcone nel caso specifico parlavano di un kit di soli 300 watt ora tanto per intenderci oggi il singolo modulo fotovoltaico che noi vendiamo il cosiddetto pannello fotovoltaico ha almeno 410 watt quindi un intero sistema che abbia una potenza di picco nominale di soli 300 watt è veramente aria fritta comunque io in passato avevo già affrontato l'argomento e mi ero espresso in toni negativi rispetto al fotovoltaico da balcone e ovviamente non è che ho cambiato idea volevo soltanto dire che noi comunque ci siamo organizzati come greenwood italia abbiamo un kit da balcone che arriva a 800 watt adesso poi levo il mio faccione così ti faccio vedere la foto che ho messo come sfondo che ti fa vedere com'è 800 watt rispetto ai 3000 watt che dovresti avere installando un impianto fotovoltaico domestico di minime dimensioni è meglio che niente è poco ma se proprio non hai alternative questo ti permette di poter essere collegato direttamente alla presa di corrente della tua abitazione e lo puoi utilizzare senza dover chiedere nessun tipo di permesso senza dover fare per legge nessun tipo di comunicazione ora 800 watt se il tuo balcone è esposto a sud e tu vivi al nord produce all'incirca mille kilowatt ora nell'arco di un anno mille kilowatt ora sono un terzo di quelli che sono i consumi medi di una famiglia italiana che vive in un appartamento normale con due persone questo per darti un'idea noi abbiamo il prodotto che però è destinato solo alla grande distribuzione perciò sul sito di greenwood italia non c'è perché non ce ne vendono un pezzo per volta e noi ovviamente far magazzino con un prodotto così di nicchia non ce la sentiamo ad ogni modo se vuoi maggiori informazioni sul merito o se sei il titolare di un'azienda che vende materiale elettrico ti prego ti prego di contattarmi per maggiori informazioni un saluto a tutti da marco faia tu esperto del fotovoltaico